Santi, Cornelio e Cipriano Cornelio, nome di antica famiglia romana, fu eletto capo della Chiesa di Roma dopo oltre un anno di sede vacante. Dopo la persecuzione di Decio, concesse il perdono a coloro che avevano rinnegato la fede per sfuggire al martirio. Un presbitero romano in disaccordo con Cornelio lo depose e si autoelesse Papa. Cornelio fu mandato in esilio, dove morì. Cipriano, nato a Cartagine da famiglia Patrizia, si convertì al cristianesimo dopo una brillante carriera di docente di retorica. Eletto vescovo di Cartagine nel 248, è noto per le numerose opere scritte, prima tra tutte quella sull'unità della Chiesa. Cornelio è patrono dei bovini, mentre Cipriano è invocato contro la peste ed è patrono dell'Algeria e dell'Africa settentrionale. Eletto vescovo di Cipriano.